Ciao! Benvenuto ad un nuovo audio di Magnetismo Personale. Oggi vedremo una tecnica importante, essere indifferenti per far ritornare da te la tua ex. Funziona? E se funziona, come fare? Che si tratti di riconquistare una ex, o che si tratti semplicemente di riavere una ragazza che non ne vuol più sapere di te dopo esservi frequentati, scoprirai in questa guida se effettivamente l'indifferenza per farla tornare può essere una valida strategia e come puoi utilizzarla efficacemente. Molto spesso, per riconquistare una persona, è necessario fare cose che sembrano controintuitive. Utilizzare l'arma dell'indifferenza è proprio una di queste. Infatti, utilizzare l'indifferenza è un qualcosa che può funzionare solo se fatto correttamente. Ma prima di andare avanti, ti ricordo che se ci stai ascoltando da YouTube, puoi iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi contenuti. Oppure, di seguire i nostri vari profili di riproduzione streaming, come iTunes, Spotify o altri. Torniamo a noi. La domanda che ci siamo posti è, l'indifferenza per farla tornare funziona veramente? La risposta è sì, l'indifferenza per farla tornare funziona veramente, a patto che venga utilizzata correttamente in base alla tua situazione. Lascia quindi che ti spieghi i motivi per la quale l'indifferenza funziona in una relazione. Molto spesso, l'errore che compiono gli uomini che vogliono recuperare una relazione con una ragazza è quello di rincorrerla, affinché lei cambi idea su una decisione che ha preso. Questa è la cosa che sembra più ovvia da fare. Tuttavia, è sicuramente la meno efficace. Anzi, può essere addirittura controproducente. Tentare di riconquistare una donna rincorrendola è la cosa più sbagliata che un uomo possa fare, in quanto fa sì che la donna sia nella sua comfort zone nel momento in cui decide di allontanarsi da te. Prendere una decisione di allontanarsi da un uomo per una donna non è mai semplice, indipendentemente dal grado di relazione avuto. Tuttavia, nel momento in cui lei prende questa decisione di distaccarsi, nel momento in cui tu la rincorri, stai rendendo questa sua decisione più facile. Questo perché se tutto va male e si pente della decisione, tu sei sempre lì a rincorrerla. Proprio questa mancanza della paura di perderti da parte sua che facilita la sua decisione nell'allontanarsi da te. Proprio perché manca quella che viene definita in psicologia fear or missing out, paura di perdere. Psicologicamente, è più emotivamente impattante perdere una persona che conquistarla. Se ci pensi, lo stesso vale anche per te. Emotivamente, è più impattante il fatto che adesso stai correndo il rischio di perdere una persona, rispetto alle emozioni positive che hai provato quando hai conosciuto una nuova persona. Nel momento in cui rincorri una donna, viene meno per lei, a differenza tua, quella paura di perderti. Proprio perché lei sa che tu ci sarai sempre per lei. Ecco perché l'indifferenza non solo funziona, ma è l'unica cosa realmente efficace per far uscire anche lei dalla sua comfort zone e fare quindi qualcosa per evitare che la relazione finisca per sempre. Questa stessa paura di perderti sarà utile per fare in modo di aumentare il tuo valore percepito. Si dice spesso che le donne hanno più valore dopo che le abbiamo perse. E effettivamente è quello che psicologicamente realmente accade. Come puoi utilizzare però questa indifferenza per farla tornare? È bene comprendere che non basta semplicemente essere indifferente nei suoi confronti per farla tornare, bensì sono necessari ulteriori accorgimenti affinché questa tua indifferenza stimoli ulteriormente la sua paura di perderti e quindi la invogli a fare qualcosa per riaverti. Andiamo quindi a vedere cosa devi fare per utilizzare l'arma dell'indifferenza correttamente. Il primo consiglio è quello di concentrarti su te stesso. Piuttosto che spendere energie nel rincorrerla, quello che puoi fare è canalizzare queste energie nel migliorare la tua persona e quindi aumentare il tuo valore. Fare questo è importante in primis per te e poi per la relazione. Per due motivi. Diventando un uomo di valore farai in modo che lei diventi più interessata a te, anche più di ora. Così facendo, la tua strada per riaverla sarà in discesa. E poi, perché contrariamente a quello che puoi credere, le donne sono attratte da quegli uomini che mettono loro stessi al primo posto piuttosto che la relazione. Hai presente quando in aereo, in caso di depressurizzazione, ti dicono che devi indossare prima tu la mascherina e poi aiutare gli altri? Lo stesso ragionamento avviene nella mente di una donna quando si tratta di scegliere il proprio uomo. Quello che ad esempio puoi fare nel pratico è decidere di iniziare a fare un nuovo sport, trovare un nuovo hobby, uscire di più, viaggiare di più, insomma riuscire ad aumentare il valore della tua persona. Più sarai in grado di aumentare il valore della tua persona, più sarai un magnete capace di attrarre a te le persone e in particolare le donne che ti interessano. Questo è un argomento cardine del mio metodo, proprio per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, ti consiglio di scaricare subito il mio manuale Metodo Magnetico, che puoi trovare sul nostro blog magnetismopersonale.com. Ti rivelo il metodo magnetico per attrarre a te qualsiasi donna desideri in poche settimane. E se ti dicessi che dopo aver letto questo manuale e applicato i concetti che ti rivelo, saranno le donne a volerti al loro fianco. Questo è quello che è successo agli oltre 400 uomini che hanno già scaricato questo manuale e messo in pratica queste potenti strategie di miglioramento personale. Andiamo avanti, ed ecco il secondo consiglio che ti do. Sii naturale nell'essere indifferente. Un errore molto comune che commettono gli uomini nel tentativo di utilizzare l'indifferenza per farla tornare è quello di essere poco naturali nel farlo, il che porta la donna a comprendere ben presto il gioco. Bisogna quindi evitare tutte quelle cose che dimostrano che ci sei rimasto male, oppure che in qualche modo sei emotivamente dipendente da lei. Evita quindi di fare cose allo scopo di essere notato. Piuttosto devi dimostrarti genuinamente indifferente e concentrato su te stesso. Dovrai adottare quella che è la filosofia dello stoicismo, di cui ti consiglio di approfondire sul mio blog magnetismopersonale.com. Per lo stesso motivo, evita di inviarle messaggi e dirle di quanto non sei interessato a lei, di rimuoverla dai social, bloccarla o addirittura scriverle lettere per dirle che non la rincorrerai più. L'indifferenza per farla tornare dovrà essere anche un motivo per dimostrare la tua sicurezza in te stesso. Il terzo consiglio è di ridurre il contatto al minimo. Per quanto è difficile, l'indifferenza per farla tornare prevede di ridurre al minimo il contatto con lei. Questo vuol dire che devi smettere di scriverle, telefonarle, di chiederle di vedervi o qualsiasi altra forma di contatto. Dovrai riservare i momenti di contatto con lei, solo ed esclusivamente nel momento in cui c'è stata abbastanza distanza fra di voi, per un periodo di tempo prolungato e quindi la paura di perderti l'ha portata fuori dalla sua zona di comfort. Questa distanza permetterà anche a lei di notare la differenza rispetto alla precedente versione di te, ovvero quando ancora spendevi le tue energie sul rincorrerla piuttosto che sul migliorarti. Se stai valutando di utilizzare l'indifferenza per farla tornare, è perché probabilmente hai capito che non puoi permetterti di perdere una persona che ami. Sia che si tratti di una storia finita dopo anni, oppure che si tratti di una relazione relativamente breve, ma per te importante, è giusto che tu faccia il possibile per riaverla. Tuttavia, in queste occasioni, non ci sono margini di errori. Proprio per questo motivo, se per te la relazione è particolarmente importante, ti consiglio caldamente di chiedere subito un consulto personalizzato tramite email con me, affinché io possa inquadrare la soluzione e darti la soluzione personalizzata in base al tuo caso. Se vuoi quindi aumentare drasticamente le chance di recuperare la relazione, tutto quello che devi fare è andare sul mio blog magnetismopersonale.com e prendere il tuo consulto. Riconquista la tua ex, richiedi un consulto personalizzato per la tua situazione. La fine di una relazione è dolorosa e i margini di errore sono minimi se non vuoi rischiare di rovinare ulteriormente il rapporto. Ecco perché puoi affidarti alla mia esperienza per recuperare la tua relazione grazie a questo consulto personalizzato. Puoi trovare questo e altri articoli sul nostro blog e se vuoi, nelle nostre risorse premium, puoi trovare molto altro che può dare una svolta alle tue relazioni. Basta andare su magnetismopersonale.com slash risorse, oppure direttamente dal nostro sito magnetismopersonale.com cliccare sul pulsante rosso Risorse. Se questo audio ti è piaciuto e ci stai ascoltando da YouTube, iscriviti al nostro canale per restare sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Se invece ci stai ascoltando da un servizio di streaming audio, come iTunes, Spotify o altri, segui il nostro profilo per poter ascoltare anche altri contenuti interessanti. Per oggi è tutto, ti do appuntamento al prossimo audio. Grazie.